Prima di annunciare il terzo concorrente, desidero comunicare che l'associazione Lipizer, per testeggiare il trentesimo concorso, ha prodotto una cartolina celebrativa. Pertanto domani, dalle ore 15.15 alle 19.15, verrà restito nel cuoier dell'auditorio un ufficio postale temporaneo per l'annullo speciale. Il terzo concorrente, quindi, è Acosta Lautaro, di 24 anni, dall'Italia. Suonerà in sequenza di Bach, adagio e fuga dalla prima suonata in sol minore, di Lippitzer, allegro, comodo e allegro sostenuto dalla tecnica superiore del violino, studio numero 18, e di Mozart, il concerto in son maggiore, KV216, primo movimento e cadenza di Franco. Il pianista, accompagnatore, è François Chilano. Grazie. 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 Grazie.